È molto probabile che il principe Ferri e Meghan Markle, insieme ai loro figli, trascorrano molto tempo a godersi la vita all'aria aperta dentro e intorno alla loro casa in California. Il principe Ferri una volta, ha rivelato come probabilmente trascorrerà le vacanze estive con la sua famiglia in California. Il duca e la duchessa di Sussex attualmente risiedono a Montecito insieme ai loro due figli, Archie, 4, e Lilibet, 2, e sembra che sia molto probabile che la famiglia trascorra molto tempo a godersi la vita all'aria aperta dentro e intorno alla loro casa in California. Durante la sua intervista a Oprah Winfrey nel 2021, il principe Ferri ha rivelato come alla famiglia piaccia andare in bicicletta insieme nella zona di Montecito, oltre a trascorrere del tempo in spiaggia con i loro cani. La famiglia ha anche il proprio pollaio e un orto nel proprio giardino, quindi è molto probabile che dedichino del tempo anche a questi. La madre di Megan, Doria Ragland, vive a circa un'ora e mezza di macchina nel quartiere View Park Windsor Hills di Los Angeles, quindi è molto probabile che sarà una visitatrice abituale della casa del Sussex quest'estate. La casa ha anche una propria guest house con molto spazio per Doria. Doria è un'istruttrice di yoga e Megan, è nota per godersi l'allenamento rilassante, quindi è possibile che madre e figlia facciano alcuni allenamenti delicati insieme, è stato riferito. Ma la coppia ha anche amici famosi nelle vicinanze come la star di Gavin Stacey James Corden e l'attore inglese Orlando Bloom, e la cantante americana Katy Perry, quindi è molto probabile che escano anche con loro.